Bologna, bentornato derby. C'è voluto mezzo secolo, meno qualche mese, ma alla fine la sfida regina, quella che per decenni, ha simboleggiato la feroce inimicizia lungo l'autostrada numero 13, torna in calendario. Pur sconfitta ieri a Terni, grazie al contemporaneo co del Frusinone, la spala rotto l'incantesimo. Qualsiasi cosa succeda nell'ultima giornata, infatti, i ferraresi il prossimo anno lo giocheranno nella massima serie. Dove ritroveranno, finalmente, l'amato odiato Bologna. Perché il derby emiliano, quello con la D maiuscola, è questo? I bolognesi più giovani non lo possono sapere, per loro la stracittadina, o straregionale, a essere pignoli, è la gara col Sassuolo, lo scorso anno addirittura col Carpi. Chi ha qualche anno di più avrà negli occhi le immagini delle gite a Parma e Cesena, più qualche puntata sporadica tra Reggio Emilia e Modena. Ma per la generazione dei baby boomers, che ora baby non lo sono più nemmeno un po', la partita di cartello è e sarà sempre Bologna a spalle. Perché gli anni 60 non furono solo l'ultima decade di una spal protagonista nel massimo campionato, ma anche quella degli ultimi rosso-blu capaci di giocare, come in paradiso, e di vincere uno scudetto. Nostalgia canaglia.